Questa mattina nel Tribunale d'Imperia si è tenuto in un nuovo udienza del processo a carico dell'ex ministro Claudio Scaiola, accusato di ricettazione a seguito del ritrovamento nel suo ufficio imperiese di un'informativa dei Carabinieri relativa all'ex parlamentare d'Imperia Eugenio Minasso e ad altri personaggi del capoluogo che si presumeva potessero avere legami nell'ambito del consumo di cocaina. Il documento risale a 1998 e i personaggi in esso indicati, compreso Minasso, non furono mai indagati né tanto meno accusati di nulla. Stamani però i loro nomi, su richiesta del PM Alessandro Bogliolo, sono riechieggiati in aula, provocandone un poco disappunto nei diretti interessati. Sempre questa mattina sono state ascoltate le deposizioni di Claudio Scaiola ed Eugenio Minasso, che hanno anche ripercorso la storia, spesso burrascosa, dei loro rapporti politici. Durante l'udienza, fra l'altro, Scaiola ha comunicato che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il procedimento che lo vede indagato per detenzione illecita di materiale coperto da segreto di Stato. Il riferimento in questo caso ai documenti sul G8 di Genova e sull'omicidio di Marco Biagi trovati nella villa di Scaiola sulla collina onegliese.